Per ricostituire l'unità territoriale dell'impero romano, Giustiniano avviò una grande e ambiziosa campagna militare, il cui obiettivo era ricondurre la parte occidentale dell'impero sotto il suo controllo. Le tappe di tale campagna furono essenzialmente tre. L'impresa iniziò tra il 533 e il 534 con la conquista del Regno dei Vandali in Africa settentrionale. La seconda tappa fu la cosiddetta Guerra Greco-Gotica, durante la quale Giustiniano affrontò gli ostrogoti di Teodorico che controllavano l'Italia. La guerra, iniziata con l'invasione della penisola nel 535, durò quasi vent'anni, dal 535 al 553. L'Italia, devastata dagli scontri militari, dalle epidemie e da terribili carestie, uscì estremamente provata dal conflitto. L'opera di riconquista si concluse nel 554, con una spedizione militare in Spagna con la quale i bizantini strapparono ai Visigoti la parte sudorientale della penisola iberica. Conclusa la campagna, Giustiniano tentò di rinsaldare il potere imperiale in Occidente, concentrandosi soprattutto sull'Italia. Essa divenne un esarcato, cioè una provincia dell'impero bizantino, governata da un funzionario imperiale, l'esarca, che risiedeva a Ravenna. Ai vescovi cattolici furono affidate funzioni di controllo, tanto sull'amministrazione cittadina quanto sulla giustizia, che conferirono loro, di fatto, un potere, in molti casi maggiore di quello dei funzionari bizantini. Per governare l'Italia, nel 554, Giustiniano emanò una serie di provvedimenti legislativi, con i quali reintrodusse l'ordinamento amministrativo romano e tutte le sue leggi e abolì le misure adottate dagli ostrogoti. Il ritorno all'autorità imperiale non apportò benefici alla penisola. La debolezza dei nuovi governanti rafforzò il ruolo morale e politico della Chiesa, l'unica istituzione capace di proteggere e assistere la popolazione italica. Sul piano economico, i bizantini si limitarono a sfruttare le risorse del territorio della penisola. Il sistema fiscale divenne particolarmente esoso e privò l'Italia di risorse e ricchezze a vantaggio dei territori orientali.